Letizia Paternoster, ospite nello stand Live, marchio che per chi non lo sapesse produce biciclette soltanto da donna. Letizia, che bicicletta è quella che utilizzate voi del team Aiaiko Alula? Sì, noi utilizziamo due tipologie diverse, una più adatta alle scalatrici e una più adatta agli sprint, l'Ario, è una bici pazzesca, super reattiva. Tu che modello hai scelto, quello più da salita o quello da volata? In base alla tipologia della corsa e del percorso ci cambiano la bici, quindi le uso entrambe e mi trovo davvero bene con entrambe, una è un po' più leggera, l'altra è un po' più aerodimamica. Quindi esattamente come i tuoi colleghi uomini, anche per voi c'è una doppia opzione di scelta tecnica. Esatto, per gli uomini, per la donna. Il ciclismo femminile ha raggiunto livelli davvero elevatissimi, vediamo anche dall'equilaggiamento di questa bicicletta con ruote ad alto profilo, sono le stesse utilizzate dai ragazzi. Esatto, cambiano probabilmente i rapporti? Sì, sicuramente in base alla tipologia anche lì del percorso si adatta anche la bici. Allora, ovviamente questa Envy Live è bici per il ciclismo agonistico d'altissimo livello, ma nella gamma di Live ci sono anche modelli per un ciclismo più rilassato, magari più adatti per tutte quelle ragazze che si avvicinano a questo sport, che ormai è popolarissimo anche tra le ragazze. Ecco, che consigli daresti alle ragazze che si avvicinano al ciclismo, magari con un'impronta un po' meno agonistica della tua? Sì, consiglio di divertirsi, di fare questo sport, perché è veramente lo sport più bello del mondo, fa bene, fa bene alla testa, fa bene al fisico, la bicicletta fatta a livello hobby è sicuramente una cosa che deve fare bene, quindi uscite, divertitevi e non fermatevi mai. Il tuo sogno nel cassetto? Il prossimo anno non lo dico.